Batti Italia rinnova il suo impegno nella lotta a contrabbando di sigarette con la donazione al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli di 10 automobili con l'obiettivo di contribuire effettivamente a potenziarne le attività di prevenzione di contrasto. La consegna è stata effettuata nel corso di una sobria cerimonia tenutasi presso la sede del Comando Regionale Campania nel rispetto delle normativi anti-covid e della presenza del Vice Presidente di Batti Italia e responsabile a fare legare le relazioni estere per il sud Europa Alessandro Bertolini e del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, Generale di Brigata Gabriele Failla. Napoli è storicamente considerata la capitale italiana del contrabbando di sigarette sin dagli anni 50, quando per via del peculiare contesto socio-economico, della presenza di un grande porto al centro del Mediterraneo e di una strutturata azione della criminalità organizzata, il commercio di sigarette fungeva quasi da ammortizzatore sociale. Secondo lo studio, il commercio illecito di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche in Italia, tra vie tradizionali e piattaforme online, nell'anno della pandemia è un fenomeno in evoluzione, curato da Intelligit, start-up sulla sicurezza dell'Università di Trento e realizzato con il contributo di Batti Italia, Napoli si conferma primo posto per il consumo di sigarette Illicit Whites, ovvero marchi prodotti illecitamente in paesi extra-UE e destinati invece soprattutto al mercato illecito nei paesi dell'Unione Europea. La provincia di Napoli riveste inoltre un duplice ruolo del mercato illecito, importante hub di transito delle sigarette verso altre città del nostro paese e zona di consumo particolarmente radicato. Nel corso del 2021 il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, da sempre in prima linea nel contrasto al fenomeno, ha effettuato 791 interventi, sequestrato 14,2 tonnellate di tabacchi, 20 mezzi di trasporto, denunciato 467 soggetti e tratti in arresto altri 42, numeri che nonostante la pandemia denotano un trend stabile che induce a ritenere che il mercato illegale dei prodotti da fumo non abbia subito sostanziali contrazioni. Tutti i segnali infoperativi e gli indicatori di analisi confermano che si tratta di un fenomeno illecito attuale, di grande rilievo e di notevole impatto, che genera centinaia di milioni di euro di danno all'erario e incalcolabili danni alla salute delle persone. Sono cifre che mantengono alto l'allarme per la pericolosità del fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati esteri e quindi elevata la priorità di contribuire all'ottimizzazione delle strategie di contrasto. La donazione si inserisce all'interno di un protocollo d'intesa che sancisce una lunga e proficua collaborazione tra BAT e la Guardia di Finanza di Napoli, che dal 2015 a oggi, con l'obiettivo di contribuire effettivamente a potenziare le attività di prevenzione di contrasto al contrabbando sul territorio, ha visto susseguirsi anno dopo anno la donazione di decine di autovetture di strumenti tecnologici all'avanguardia.